UbiBank ha stanziato un plafondo da 5 milioni di euro per favorire il ripristino dei danni subiti da imprese e famiglie in seguito a una forte ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo Arezzo e provincia, estendibile anche alle zone limitrofi della Toscana. Il plafondo è destinato a finanziare le spese di ricostruzione e ripristino degli immobili e dei beni strumentali all'attività e a concedere l'elasticità di cassa venuta a meno a seguito degli eventi calamitosi. In particolare il plafondo potrà essere utilizzato mediante operazioni chirografarie a medio e lungo termine con durata massima di 5 anni, riduzione delle spese di istruttoria pari ad almeno il 30% del listino e operazioni a breve termine anche per smobilizzo crediti con condizioni agevolate. Mi preme esprimere le più sentite condoglianze ai familiari della vittima retina di questa violenta ondata di maltempo, afferma Cristian Fumagalli, responsabile della macroarea Lazio, Toscana e Umbria di UbiBanka. Esprimiamo anche la nostra vicinanza a tutte le famiglie e le aziende duramente colpite. L'intervento della nostra banca, prosegue Fumagalli, intende offrire concreto supporto per il superamento di difficoltà e disagi causati dalle calamità naturali abbattutesi su quest'area e in particolare ad Arezzo, città che ci sta particolarmente a cuore. È possibile rivolgersi al personale delle nostre filiali e ai gestori corporate che sono a completa disposizione per ogni informazione.